Si giocava veramente a pochissimo tempo dall'ultima partita a Bergamo, quindi diciamo si è sentito anche un po' la vicinanza di queste due partite. Qual è il tuo commento di il coach alla fine di questa partita, alla luce anche della partita che ci sarà domani? Alla luce della partita che ci sarà domani dobbiamo capire che dobbiamo stare attenti, perché abbiamo visto che appena abbiamo calato un pochino loro sono fatti sotto. Sicuramente domani loro continueranno come oggi a rischiare molto in battuta, noi dobbiamo essere bravi a prendere il ritmo, così quando è il momento buono cercare di staccarle, l'abbiamo fatto stasera, però la differenza c'è, però non dobbiamo approfittarle, questo è molto importante. Ampia rotazione, soddisfatto di tutte le ragazze come hanno risposto da Cecconello all'esordio in Champions League? Sì, 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 no, no, penso che anche voi, questa è una squadra che abbiamo visto, è una squadra giovane ma gioca pallavola, appena si cala un attimino ci hanno messo in difficoltà, per cui penso che le ragazze siano state brave, ripeto, c'è stato qualche momentino così, che abbiamo un po' calato l'attenzione, però che ci serve la lezione per domani. Grazie.